Avevano ottenuto la supremazia nel mercato dei pneumatici attraverso un vorticoso giro di fatture per operazioni inesistenti, rilasciate da società fantasma, allo scopo di non pagare tasse, imposte, accise e dazi, potendo così rivendere a prezzi impossibili per il mercato regolare. I carabinieri e la Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno eseguito una ordinanza cautelare nei confronti di 11 persone, indagate a vario titolo per associazione a delinquere. L'indagine è stata avviata nel 2020. Gli indagati, attraverso una frode carosello, avrebbero ottenuto a vario titolo un indepito risparmio d'imposta, simulando una serie consecutiva di vendite di prodotti mai usciti dai magazzini della società venditrice, con la collaborazione di aziende estere ed italiane, rivelatesi delle cartiere. Il gruppo aveva collegamenti anche in Repubblica Ceca, dove sarebbero state create delle società fittizie necessarie per la realizzazione delle frodi. Il meccanismo sarebbe stato realizzato per favorire una società di San Cataldo, che avrebbe omesso di versare 2 milioni e mezzo di euro in tasse, derivate da un fittizio fatturato di circa 8 milioni di euro. Questo meccanismo, come contesta la procura di Caltanissetta, le avrebbe assicurato una posizione di supremazia nel mercato dei pneumatici, venduti al pubblico a prezzi notevolmente inferiori a quelli determinati dalle regole della concorrenza, a ovvio svantaggio delle imprese rivali. Tre degli indagati, considerati costitutori, promotori e organizzatori del sodalizio, sono stati posti agli arresti domiciliari. Gli altri otto sono stati sottoposti alla misura dell'interdizione dall'esercizio delle attività d'impresa e al divieto d'assunzione di uffici direttivi delle persone per la durata di un anno. Parallelamente è stato eseguito un sequestro preventivo di circa 2 milioni e mezzo.